Pronto? 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 Pronto! Scusi, con gli parlo io? Con lo spuso! Cosa vuole lo spuso? 20.000 euro impegnati con determina dal comune di Modica per pagare i telefonini degli assessori. La determina è la 3582 del 4 dicembre scorso. La giunta Bate impegna la bellezza di 20.947 euro per pagare i telefonini del sindaco e degli assessori in un anno solare. Ma come si arriva a questa esosa somma in ragione delle fatture del bimestre agosto-settembre del 2014 quando il comune per due fatture ha dovuto pagare 3.067 euro? La domanda sorge spontanea, ma non esistono tariffe e offerte flat che permettano agli amministratori modicani di spendere meno di 20.000 euro l'anno a telefonate?